Musica Io fui scritturato per una combinazione, proprio alle volte la vita è fatta di combinazioni, e fui scritturato per andare a inaugurare un ristorante, ma veramente per andare a inaugurare nel ristorante uno spettacolo di varietà. Andai là a fare il pianista, e una sera il direttore, lei se la sentirebbe di formare un trio per un locale nuovo che apriremo per l'elite napoletana. Musica Non si preoccupi perché il batterista ce l'ho io, a un certo punto per me il giorno era, il night che è tutto al buio, buongiorno, io sono Giogeo Di Giacomo, sono il batterista, e la batteria, dico no, se no la batteria non ce l'ho, va dietro al banco del bar, così prende un platò qua, con dei bicchieri sopra, un paio di forchetti, ci possiamo cominciare. Musica Successo è una cosa che è il destino che le prepara, con Ubi, mio compagno di viaggio, quello che scrive le parole, Nicola, Salerno, quello che ha scritto è, e passa il spazio sotto a su un barcone, ma tu sei guaglione, me lo presentarono, e facendo un concorso radiofonico, con tre pezzi, buonanotte, un suspiro, e tuo fallo americano. Quello che mi colpì di tutte e tre cose, questo mi piace, però cominciava così, Porte che al suono, come sta in marreta, una coppulella che avrei si era ezzata, fu un grande successo, Poi facemmo, prendiamo una pastiglia, usiamo il racino, facemmo un sacco di cose. La sera la gente si divertiva, fino alle tre, tre e mezza del mattino, non frenevo mai, il tempo libero ce l'avevamo quando andavamo a dormire. Musica